Il presidente Marco Marsiglio e l'assessore Pietro Quaresimale, accompagnati da una delegazione della diocesi Terra Moatri guidata dal vescovo Lorenzo Leuzzi, sono stati ricevuti in udienza dal Santo Padre in occasione dell'inaugurazione dell'albero di Natale del presepe artistico di Castelli, allestiti quest'anno in piazza San Pietro. Il presidente Marsiglio ha donato una riproduzione del rosone della Basilica di Collemaggio dell'Aquila e nel ringraziare il Sommo Pontefice per il privilegio concesso, ha spiccato quanto prima di poter ispitare in Abruzzo il Santo Padre. Il presepe e l'albero in piazza San Pietro rimarranno esposti fino al 10 gennaio 2021, festa del Battesimo del Signore, con cui si conclude il tempo di Natale.